E' stato ospite oggi, 8 maggio 2016, su Cavici, in cui era trasmissione televisiva domenica Rai. Sto parlando di lui e del famoso attore italiano Alvaro Itali, conosciuto e più come Pierino. Che cosa avrebbe detto di buon Alvaro? Avrebbero le seguenti parole. Prima del cinema facevo l'elettricista, ma le battute le ho sempre fatte anche gli scherzi. Mi sporcavo di nero, mettevo i capelli dritti e gli dicevo, ho preso la corrente. Di Pierino in realtà ho fatto 4 film, ma li passano sempre in tv, sempre che ne abbia fatta chissà quanti. In realtà ho fatto 150 film, ma di Pierino solo 4. Mai innamorato del bellissimo? Vi avrebbe chiesto la bella Barbara D'Urso. E la risposta di Pierino sarebbe stata la seguente. No, mai. Era una collega, amica, era una famiglia, diventavamo come frate e sorelle. Che avrebbe risposto così con la divertente buon Alvaro. Non avevo il tempo per innamorarmi, mi venavano tutte. Avevo giunto commentando un videocollage di immagini. Dopo la fattoria mi era mancata così tanto Stefania e che le ho chiesto di sposarmi. Quindi è anche colpa tua. Avrebbe detto Vitali a Barbara D'Urso, a coppia, vi ricordo che da 10 anni è sposata. E poi la sorpresa è il mio figlio che Alvaro ha avuto da una precedente relazione, il quale è venuto per l'appunto in studio a trovarlo. Bene, Alvaro nonostante gli anni che passano, a livello estetico si vedono che sono passati, si dimostra comunque un grande mattatore, un grande comico, ma anche un personaggio sofisticato del buono della televisione. Complimenti dunque a lui, il video termina qua. Un saluto e a presto. Grazie.